E' da poco passata mezzanotte. Romeo Antoniazzi, gestore della sala slot Mirage di Susegane, nell'ufficio che ospita la cassa. Nel locale, in quel momento, con lui ci sono tre clienti. All'improvviso, come mostrano le immagini del sistema di videosorveglianza, entrano due uomini di colore, corporatura robusta e il volto travisato da passamontagna e dal capuccio della giacca. Entrambi in mano stringono una pistola. Mi hanno buttato la pistola alla testa e mi hanno detto dammi i soldi che se no ti sparo. Sono attimi concitati, Romeo Antoniazzi non si fa cogliere dalla paura, ma anzi traprende una collutazione con uno dei due malviventi. Compulsivamente, con la mano scacciata dalla pistola, è caduta per terra e si è spezzata in mille pezzi perché era di plastica. Quindi là ho capito che erano due pistole finte e li ho aggrediti e li ho cacciati fuori a calcinello. I due fuggono sul posto, arriva una guardia giurata avvertita dal sistema antipanico attivato dal gestore. Pochi minuti e sopraggiungono anche i carabinieri. In ventani di attività, racconta Romeo Antoniazzi, ho subito diverse aggressioni e rapine. Uno ce le porta anche dietro questa rabbia e in questa occasione mi è venuta fuori un'energia paurosa. Se io avesse avuto qualcosa di più pesante li avrei stecchiti qua davanti.